Grazie a Stefano Quintarelli che non ha bisogno proprio di presentazioni per essere qui con noi al salotto del mix 2012 e gli rivolgiamo questa domanda. Sei d'accordo sulla proposta di Etno di estender l'ITR a internet? Quali sono le tue previsioni nel caso questa proposta avesse successo e gli effetti sulla internet come la conosciamo oggi? Ok grazie, fammi cominciare con la battuta. Sostengo la proposta di Etno in sede ITU, perché almeno se non lo faccio io rimane da solo Etno a sostenere la proposta. No, al di là della battuta evidentemente sono tutti i contrari e devo dire che io fin dall'inizio ho sempre sostenuto che questa era una proposta che non poteva volare, ma non poteva volare per almeno tre questioni. La prima, allora si dice sempre che ogni problema mette una soluzione semplice ed elegante e sbagliata. Ecco questa è una soluzione semplice ed elegante e sbagliata. Semplice ed elegante perché si fa riferimento a un mondo che non c'è più. Si fa riferimento a un mondo che è quello telefonico che ha delle caratteristiche completamente diverse da quelle della trasmissione dati. Ed è questa la cosa da capire, che sono due bestie completamente diverse. Nel traffico telefonico i pacchetti sono quantizzati, sono pacchetti G711 da 64 kb, sono come i mattoncini del Lego. Nella trasmissione dati i flussi sono di dimensioni, è come una sabbia al confronto con i pacchettini del Lego, con i mattoncini del Lego. I flussi possono essere di dimensioni assai variabili. Nel traffico telefonico c'è sostanzialmente sempre una parte che origina e una parte che termina. Nel traffico dati questo non è più vero. Oltretutto la parte che origina il traffico non è necessariamente quello che lo avvia. Insomma ci sono tante ragioni per cui questa cosa proprio non può funzionare. Il costo dell'accounting diventerebbe sicuramente superiore. Il fatto che io non controllo, non sono in grado di controllare l'origine del traffico. Come disse una persona dei sostenitori, io potrei a questo punto prendere tranquillamente in affitto una botnet e generare traffico verso la mia rete in modo tale che il principio del sending network pays mi farebbe guadagnare quattrini. Insomma è una cosa che non sta in piedi. Ma alla base di tutto c'è un errore ideologico, secondo me. Ed è quello che la better quality, la miglior qualità, che nella mente dell'operatore telefonico tradizionale meglio è se ho livelli di prestazione costanti garantiti e noti e ingegnerizzati a priori. Questo è, nella mente dell'operatore telefonico tradizionale, il meglio. Perché questo è il modo con cui sono state progettate quelle reti, è la cosa con cui hanno imparato. Nell'operatore internet il meglio è quello che mi dà una libertà di connessione end to end e dove io posso usare le risorse disponibili là quando ci sono. Quindi stiamo parlando di due meglio diverse. Sono due modi di concepire le telecomunicazioni. Uno che guarda agli anni 60 e uno che guarda al ventunesimo secolo. No, non. Sono due livelli di 영상. Anche il mondo. No, non. 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 Non.